Domenico Tanzarella, sindaco di Ostuni, ci ripensa e archivia le dimissioni. A convincerlo un documento congiunto a firma dell'intera giunta comunale, dei consiglieri e dei rappresentanti delle forze politiche della maggioranza. Domenico Tanzarella, come è noto, aveva annunciato le proprie dimissioni da primo cittadino della città bianca in protesta contro l'approvazione da parte della regione Puglia del piano di rientro Briss e nello specifico contro la prevista chiusura dell'unità materno-infantile presso l'ospedale di Ostuni. Alla fine di un vertice che si è svolto proprio sabato scorso a Palazzo di Città, il sindaco ha deciso di ritirare le sue dimissioni. Ma la battaglia continua, dice Tanzarella. Chiediamo di coinvolgere nella battaglia a difesa della comunità della zona il presidente della provincia Massimo Ferrarese, i sindaci di Carovigno, di San Vito, di San Michele Salentino, di Cisternino, di Celli Messapica, nonché ai consiglieri regionali che già in consiglio comunale si erano espressi in tale direzione, cioè di tutelare e salvaguardare l'ospedale civile di Ostuni.